Questa mattina durante l'udienza conoscitiva relativa al nuovo piano socio-sanitario purtroppo abbiamo trovato conferma di tante criticità e di tanti dubbi che questo piano ci solleva. Innanzitutto è da vent'anni che in Emilia Romagna si parla di integrazione tra servizi sociali e servizi sanitari e invece nel 2017 una regione evoluta come la nostra dovrebbe già essere a un livello avanzato di integrazione e parlare solo di miglioramenti. Questo ovviamente è un primo ostacolo da scavalcare e da superare per far sì che i cittadini dell'Emilia Romagna possano trovare veramente aiuto nei servizi socio-sanitari dell'Emilia Romagna. Secondo noi ci sono delle parole chiave da portare avanti che sono programmazione, ottimizzazione e lungimiranza. Non possiamo ragionare sempre in un'ottica elettorale, dobbiamo guardare nel lungo periodo per far sì che i servizi della nostra regione possano essere ottimizzati. Non possiamo permetterci che i piccoli ospedali periferici chiudano o depotenzino servizi. Non possiamo permetterci che non venga attivata la sanità territoriale mentre intanto si chiudono servizi all'interno degli ospedali. Non possiamo assolutamente permettere che la sanità e i servizi sociali vengano messi a mercato, che in questa regione ancora ci siano dei ticket aggiuntivi che fanno aumentare il costo della sanità per i cittadini. Non possiamo permetterci che ci siano degli operatori sanitari sfruttati o comunque con dei contratti capestro nel settore privato e che quindi a loro volta diventino purtroppo utenti del servizio socio-sanitario. Ci sono tanti margini di intervento. Noi faremo sicuramente delle proposte per migliorare questo piano, per far sì che veramente ci sia un'integrazione, si attuino i cosiddetti liveas, cioè i livelli essenziali di assistenza sociale e sanitaria, per far sì che le condizioni dei cittadini dell'Emilia-Romagna, di coloro che ovviamente hanno più bisogno che il pubblico e la sanità pubblica, resti efficace ed efficiente. Nelle prossime settimane continuerà il dibattito, già domani ci sarà una nuova commissione, faremo le nostre proposte anche raccogliendo ovviamente quelle che sono state le osservazioni che sono venute dalle persone che sono intervenute in commissione oggi nell'audizione. Grazie. Grazie. Grazie.